Con un dono speciale. Beato Francesco da Caldarola, morto 1407, nativo di Caldarola nella diocesi di Camerino, francescano e predicatore di successo, con un dono speciale per la riconciliazione dei nemici. Il suo culto fu approvato da Gregorio XVI. Commento. Il sentire a suo tempo chiamato Francesco da Caldarola per evoluzione raggiunta aveva acquisito il talento per cui riconciliava i nemici. E la Chiesa lo proclama beato. E perché non santo? Perché un'organizzazione umana ha questo potere? Chi ha raggiunto un certo sentire si fa inderogabilmente queste domande.